perché collegarsi al mio canale una delle caratteristiche principali dei miei video è che sono corti e che abbracciano diversi ambiti possono anche essere divertenti vi sono video che ho fatto su colmi, barzellette, ho cantato delle canzone con dei personaggi anomali dei pupazzi che ho acquistato, questi video sono dedicati principalmente ai bambini quindi io chiedo scusa alle persone che si ritengono quasi offese dalle banalità presenti in questi video solitamente io registro questi video con un altro aspetto con un cappello e degli occhiali da soli e degli occhiali da sole e degli occhiali da sole questo perché registro principalmente la sera e le luci che illuminano, che danno luce alla notte sono molto forti, li vedrete riflesse negli occhiali da sole grazie a tutti